All'interno del precedente video avevamo trattato le membrane biologiche e in particolare la struttura e la composizione. Oggi entreremo nel dettaglio del trasporto delle sostanze attraverso la membrana. Le membrane biologiche si lasciano attraversare da alcune sostanze, ma non da altre. Per questo motivo sono dette semipermeabili. La membrana permette il passaggio delle molecole solubili nei lipidi, oppure di molecole di piccole dimensioni, come per esempio l'acqua o l'ossigeno. Il passaggio di queste sostanze attraverso la membrana avviene tramite diffusione semplice, diffusione facilitata, oppure osmosi. Questi tre meccanismi hanno in comune due aspetti. Per prima cosa avvengono sempre secondo gradiente, cioè da dove la sostanza è più concentrata a dove lo è di meno. Come seconda cosa non richiedono energia, ovvero sono meccanismi di trasporto passivo. Esiste poi un ulteriore meccanismo di trasporto, detto trasporto attivo, che avviene contro gradiente e richiede energia. Andiamo a parlare adesso della diffusione semplice. Se si lascia cadere dell'inchiostro nell'acqua, questo tenderà spontaneamente a distribuirsi in modo uniforme. Ciò avviene perché all'inizio era maggiormente concentrato in un punto rispetto che altrove. La tendenza è stata quindi quella di raggiungere la stessa concentrazione ovunque. Così, se una sostanza si trova in una diversa concentrazione ai lati opposti della membrana, tende spontaneamente a trasferirsi. Per quanto riguarda la diffusione facilitata, invece, è simile alla diffusione semplice, ma richiede la presenza di canali che colleghino l'interno della cellula con l'esterno. E si tratta di proteine transmembrana, proteine canale o carriers, il cui funzionamento può essere regolato a seconda delle esigenze della cellula. Un esempio sono i canali ionici e le acquaporine. I canali ionici mettono in connessione il citoplasma con lo spazio extracellulare attraverso dei pori stretti e selettivi. La loro funzione è quindi quella di permettere agli ioni di diffondere molto rapidamente secondo il loro gradiente di concentrazione. Le acquaporine, invece, sono delle piccole proteine che hanno la funzione di incrementare il passaggio dell'acqua. Delle acquaporine si distinguono due tipi. Le acquaporine classiche, che consentono soltanto il passaggio dell'acqua, e le acquagliceroporine, che, oltre all'acqua, lasciano passare anche il glicerolo. Andiamo adesso a trattare l'osmosi. L'osmosi è una particolare diffusione che si realizza ogni volta che due soluzioni acquose a diversa concentrazione sono separate da una membrana semipermeabile. L'osmosi consiste nel passaggio di acqua dalla soluzione più diluita verso la soluzione più concentrata, cosicché il volume di quest'ultima tende ad aumentare, mentre l'altro tende a diminuire. L'acqua, quindi, passa dalla soluzione più diluita, dove è in quantità maggiore, alla soluzione più concentrata, dove è in quantità minore. Ovviamente, a causa del diverso volume, ai due lati della membrana agiscono due pressioni idrostatiche diverse, e tenderà a contrastare il flusso dell'acqua fino a fermarlo. A questo punto, la differenza di pressione idrostatica ai due lati della membrana corrisponde alla tendenza dell'acqua a passare per osmosi, e questa è la pressione osmotica. Una cosa da notare è che non è stato fatto alcun riferimento su cosa contengono le soluzioni, perché l'osmosi dipende soltanto dalla differenza di concentrazione. Un esempio è quello dei globuli rossi del sangue, degli eritrociti. Se poniamo un'eritrocita in tre soluzioni diverse, una esotonica con la stessa concentrazione del citoplasma, una ipertonica a concentrazione maggiore e un'altra ipotonica a concentrazione minore, la prima soluzione non darà luogo ad alcun fenomeno. Nella seconda si avrà la fuoriuscita di acqua dal globulo rosso, che a questo punto si raggrinzirà, mentre nell'ultima soluzione il globulo rosso andrà a rigonfiarsi a causa dell'acqua che entra. Le cellule animali vivono in un ambiente che è praticamente isotonico e quindi non hanno quasi mai a che fare con l'osmosi. Le cellule vegetali invece sono costantemente immerse in un ambiente ipotonico. In esse quindi si assiste ad un incessante ingresso d'acqua e se non ci fosse la parete a contenere l'aumento di volume, le cellule vegetali sarebbero destinate a scoppiare. Abbiamo quindi concluso il trasporto passivo. Andiamo adesso a trattare del trasporto attivo. Il trasporto attivo richiede energia e interviene quando una sostanza deve muoversi contro il gradiente di concentrazione. Il processo è termodinamicamente sfavorito ed è eseguito dalla scissione di ATP che libera energia necessaria per il passaggio. Le modalità di trasporto attivo sono tre. Uniporto se si trasferisce una sola sostanza in un'unica direzione, simporto se si trasferiscono due sostanze nella stessa direzione e antiporto se si trasferiscono due sostanze in direzioni opposte. Il tutto avviene tramite dei cambi conformazionali delle proteine di membrana che mirano trasportare le molecole specifiche da una parte all'altra. Per il trasporto attivo si distinguono proteine trasportatrici e pompe ioniche. Le proteine trasportatrici sono proteine che consentono il transito di una specifica molecola secondo le varie modalità appena descritte di uniporto, simporto e antiporto. Le pompe ioniche invece sono delle proteine transmembrana con uno o più siti di legame per l'ATP dal lato citoplasmatico. Tra le principali abbiamo la pompa del calcio, le pompe protoniche e la pompa sodio-potassio. La pompa del calcio trasporta ioni calcio fuori dalla cellula oppure all'interno del reticolo endoplasmatico e serve per mantenere bassa la sua concentrazione nel citoplasma. La pompa sodio-potassio trasporta contemporaneamente tre ioni Na+, fuori dalla cellula e due ioni K+, dentro e serve a mantenere differenziate le due concentrazioni degli ioni dentro e fuori dalla cellula. Le pompe protoniche invece servono a trasportare idrogenioni all'interno degli isosomi per mantenere basso il loro pH. Un tema molto trattato di solito agli esami o nei test è quello del potenziale di membrana a riposo e della pompa sodio-potassio. Andiamoli a vedere nel dettaglio. Nelle cellule la concentrazione degli ioni K+, è circa 20 volte più alta all'interno che all'esterno, mentre gli ioni Na+, è circa 8-12 volte più alta all'esterno rispetto che all'interno. Oltre alle pompe che mantengono costante questa differenza, ci sono canali che favoriscono il passaggio secondo gradiente di sodio, potassio e cloro e questi possono essere aperti o chiusi. Il fatto che i canali del potassio siano tutti aperti mentre quelli del sodio siano chiusi genera un potenziale elettrico transmembrana di circa meno 70 millivolt. Nella membrana si hanno infatti tutte le cariche negative sulla parte interna e quelle positive nella parte extracellulare. Si è creata quindi una differenza di potenziale. La differenza di potenziale si crea perché esiste una pompa che espelle sodio e trasporta all'interno potassio ed è quindi detta pompa sodio-potassio. Quando questa pompa funziona consente di portare all'esterno tre ioni sodio e di far entrare due ioni potassio. Essendoci molto più sodio che esce rispetto al potassio che entra, si crea una concentrazione di sodio più alta all'esterno e di potassio all'interno e questo è fondamentale per la differenza di potenziale. Andiamo a vedere il funzionamento della pompa sodio-potassio. Allo stato iniziale la pompa è aperta verso l'interno e tre ioni sodio vengono presi dall'interno. A questo punto entra in gioco l'ATP. Si forma ADP e un fosfato altamente energetico che si attacca all'estremità della pompa. Questo provoca un cambio conformazionale successivo alla fosforilazione che espelle all'esterno i tre ioni sodio. Dopo che i tre ioni sodio sono stati trasportati fuori, la pompa si apre verso l'esterno ed è pronta per cominciare la seconda parte del ciclo. Grazie ad una defosforilazione si ha il cambio conformazionale della pompa che porta verso l'interno i due ioni potassio e a questo punto la pompa è tornata allo stato iniziale ed è pronta per iniziare un nuovo ciclo. Con questo abbiamo concluso i principali meccanismi di trasporto attraverso la membrana. Iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche se volete rimanere aggiornati. Lasciate un like o un commento per farmi sapere se il video vi è stato utile. Per oggi è quindi tutto, grazie per l'attenzione e a presto!